La contesta la Giana l'organizò Pettia per farti conoscere i soci della raffineria. Ci sarà tutta la sirenusa che conta e non puoi sfigurare in mezzo a loro. Io no contadino sogno. E si vede. Nemmeno un paio di calze lunghe c'hai. Adesso mi stai scassando la micchia. Ma che c'hai? Sei nervoso? Perché non vedi quella bottana di suora? Mi sta creando un sacco di problemi con la spedizione della droga in America. E tuo zio mi sta assillando. E tu lascialo perdere. Non posso. I cugini americani si storcono. Ti mando a vedo da quella maledetta suora. Bravo. Infilati questo. E con quelle calze corte vedi non accavallare le gambe? Gli arrusi accavallano le gambe. Guardami bene, picciotta. Ti sembra un arruso? Se vuoi. Ti posso dare la prova anche subito. Non ho bisogno di nessuna prova. Sicura? Non rimarresti delusa, te l'assicuro. E nemmeno tu. E fermati. Mi facessi una promessa? E vattene allora. La paglia vicino al fuoco non si mette. E allora stammi a sentire. La paglia subito si brucia e subito si spegne. E per quanto mi riguarda il fuoco che accenderò io tutta la vita deve durare.